È un lungo processo, dalla teorizzazione, dal quadro teorico e dallo stimolo politico che è stato lanciato da Ocalan, ai primi del 2000 c'è stata non solo una adesione a parole d'ordine che venivano lanciate dal leader, quello che ha fatto vedere il movimento kurdo in generale e in particolare poi nella pratica del Rojava a partire dalla crisi interna siriana del 2011 è stato quello sempre di cercare di far viaggiare in contemporanea, in parallelo, l'azione pratica con l'azione teorica, per cui la cosa da sottolineare è che questo contratto sociale a cui si è arrivati adesso è il risultato di un percorso che è stato un percorso di guerra ma che, e vedremo poi nel risultato, ha avuto anche gli elementi di una concezione di una visione della pace futura che serve non soltanto a Rojava, l'amministrazione autonoma democratica, questo è l'aggiunta perché fino adesso si chiamava amministrazione autonoma del nord est della Siria, adesso l'aggiunta è stato del nuovo contratto sociale di aggiungere chiaramente democratico, democratico nel 9, soprattutto il percorso che è stato fatto, in una dinamica di guerra c'è stata, vi ricordo, la guerra contro lo Stato Islamico, la sconfitta dello Stato Islamico da parte delle forze kurdo-arabe, quindi in un periodo di guerra però c'è stata anche la crescita e l'occupazione di un territorio che, tenete conto, nella parte sud del Rojava è abitata prevalentemente da arabi, quindi da un altro gruppo con anche altre abitudini culturali, non tutte completamente diverse, però per esempio nelle pratiche sociali, nelle reazioni maschi e femmine non avevano alle spalle, il gruppo di cultura araba non ha alle spalle quello che invece il gruppo kurdo in generale ha avuto alle spalle come percorso, per esempio, di autonomizzazione delle scelte femminili che vengono, che erano state nel Rojava durante i combattimenti, anche dimostrate concretamente dalla presenza di reparti femminili nell'esercito, oppure dei gruppi solamente femminili all'interno degli Asaish che sono le forze di difesa locali. E questo lo ritroveremo ribadito in questo nuovo contratto sociale, perché anche il vecchio contratto sociale che era stato fatto anni fa è stato man mano aggiustato sulla base dell'esperienza pratica, però alla fine nel 2020 si è deciso che siamo in una situazione stabile, vogliamo darci una prospettiva futura e quindi aggiustiamo e stabilizziamo questo contratto sociale, anticipo già una cosa, è un contratto sociale che però già prevede la possibilità di essere adeguato, di essere cambiato, secondo particolari criteri naturalmente. Questo per sottolineare che la particolarità di questa area del mondo e di questi soggetti non solo politici è quella di avere una mentalità flessibile, cioè di stabilizzare le cose sulla base dell'esperienza e di consolidarle, ma anche di vedersi in prospettiva ed essere disposti a cambiare le proprie opinioni e a discutere soprattutto con gli altri. E quindi io, guardate, sono 86 di diapositive, ma andrò molto velocemente, in certi momenti parlerò e dirò soltanto le parole significative all'interno del nuovo contratto sociale. Vi dicevo che dal 2020 si è deciso di cambiarlo e che pratica si è deciso di utilizzare. Guardate, in contemporanea anche i russi e Assad hanno deciso di voler fare una nuova costituzione e hanno fatto, hanno utilizzato il sistema tradizionale che abbiamo fatto anche noi, quando si è fatta la costituente, solo che noi a suo tempo abbiamo eletto i costituenti, i quali hanno poi prodotto una discreta costituzione di 137 più due articoli, quelli del Rojava con il nuovo contratto sociale sono arrivati a 134 articoli. La vicinanza dal punto di vista della struttura non ci sono molte differenze, da questo punto di vista il nuovo contratto sociale è paragonabile assolutamente a una qualunque delle costituzioni dei cosiddetti paesi democratici, però con all'interno delle novità di tipo strutturali e delle pratiche che metterebbero in crisi anche i sistemi democratici, perché vorrebbe dire costringere i sistemi democratici nella pratica a cambiare alcuni meccanismi di funzionamento. Vi dicevo, naturalmente questo lavoro dei 150 esperti di tre grandi gruppi che per Assad e i russi avrebbero dovuto fare la nuova costituzione della nuova Siria non ha ancora prodotto niente e il ministro degli esteri russi ha detto che non siamo arrivati a una conclusione. Piccolo particolare, tre grandi gruppi non hanno chiamato nessuno del Rojava del Nordeste, non hanno coinvolto, ha voluto coinvolgere quelli che sono l'esperienza pratica più concreta e paradossalmente più pacifica all'interno di quel territorio, mentre nello stesso periodo grazie alla costituzione di 158 persone elette da vari comitati che hanno cominciato a preparare delle bozze e a iniziare una consultazione sistematica di tutte le organizzazioni dal basso che sono già presenti nel nordest della Siria e che funzionano già adesso in quelle condizioni come a amministrazione normale di quello che sta avvenendo. E quindi questo non è stato solo la costruzione teorica, ma anche un grosso lavoro di consultazione e quindi di partecipazione, perché anticipo una cosa che si ritrova detta più di una volta nel contratto sociale, una delle pratiche che viene sollecitata e rivendicata nel contratto sociale è quella della decisione per consenso. Quindi si troverà la parola referendum, si trova la parola elezioni, si trovano le parole rappresentanti, i mandati, il diritto di voto eccetera, ma ci sono le parole all'interno codificate nel contratto sociale dei termini che sono forti. Il risultato della discussione si ottiene per consenso. Intanto già all'inizio, nel preambolo, noi figli e figli della Siria del nordeste e poi perché non ci siano dubbi di chi sono queste figli e figli, kurdi, arabi, assiri, siriaci, turcomanni, armeni, circassi, ceceni. E fino qua siamo a gruppi umani che si riconoscono elementi culturali, poi musulmani, cristiani e ezidi. Consapevoli e convinti del dovere che ci è stato imposto dai martiri in risposta alle richieste dei nostri popoli di vivere in modo dignitoso. E in risposta ai grandi sacrifici compiuti dai siriani ci siamo riuniti per stabilire un sistema democratico nel nord e nell'est della Siria che costituisca la base per la costruzione di una Siria futura e anche qua un elemento significativo è la costituzione del Rojava ma loro lanciano il messaggio che questa può essere la base di una costituzione di una Siria democratica e la citano, è presente, è una Repubblica democratica di Siria che non c'è, che però loro dicono che ci può essere e noi vi proponiamo le basi di una discussione, siamo disposti a confrontarci su questa base che chiamiamo una Siria futura senza tendenze razziste, discriminazioni, esclusioni o emarginazioni di alcune identità. Questa è la prima fase del preambolo, tanto per chiarire, per mettere in chiaro quali sono, qual è il quadro iconografico complessivo. Il 14 dicembre del 20 vi ho detto è stato formato il comitato dei 158 elementi, poi consultazioni pubbliche che hanno svolto un ruolo centrale ma loro stessi dicono e ripetono ma tutto naturalmente dipenderà dall'attuazione pratica e dal grado di reale autonomia che i consigli popolari a livello locale e regionale portano a esercitare. Lo sanno bene, lo dichiarano apertamente, che questo è un quadro teorico ed essendo un quadro teorico va confrontato con la pratica. È una cosa che è già stata fatta ma non si può mai garantire niente, non è un qualcosa che è scolpito nella pietra di cui si è certi che funzionerà. Il grado di funzionamento dipenderà dall'attuazione pratica. Intanto i mandati dai vari rappresentanti sono di due anni, tutti quelli che vengono eletti possono essere revocati dal loro corpo elettorale. Questo è l'elemento di diversità rispetto alla democrazia parlamentare occidentale perché noi eleggiamo il singolo deputato, si possono presentare molti partiti, per esempio in Italia chiunque venga eletto, anche se è eletto in una lista con un partito, di fatto individualmente rappresenta il popolo italiano. Questa è la rappresentazione teorica e questo comporta, come sapete bene, il cambio di casacca, di parlamentari che vengono eletti con un partito, passano a un altro partito eccetera perché si dice che lui rappresenta il popolo italiano e quindi non ha vincolo di mandato. Allora da questo punto di vista invece loro hanno un sistema di elezioni dei vari rappresentanti che per il 60% vengono eletti a livello di suffragio universale, per il 40% invece è eletto da organizzazioni comunitarie. Per noi occidentali questo, ah qui ci fa venire in mente qua in Italia il fascismo delle corporazioni eccetera, io invece vi riporto alle frasi del preambolo e a quella lunga lista di definizione di che cosa vuol dire noi figli e figli del nord-est. Quel lungo elenco, ebbene siamo in una situazione che è quella del Medio Oriente che non solo ha una lunga storia di dittatura, di controllo dall'alto, di impere, di negazione dei diritti eccetera, di costrizione sociale, di disuguaglianze economiche, di disuguaglianze di diritti a seconda dell'appartenenza per lingua e per religione, cioè noi siamo in quel contesto il che vuol dire è che loro in questo momento dicono come facciamo noi a garantirci che tutti i gruppi, quella lunga lista di gruppi che abbiamo citato possa essere rappresentata al momento decisionale, la loro scelta è stata pratica, ha detto bene il 40% verrà eletta da questi gruppi, per cui noi saremo sicuri che tutti questi gruppi saranno rappresentati nel momento della decisione e non si può correre il rischio che sulla base di meccanismi elettorali o altri ci sia un gruppo che non riesce a superare la soglia, non riesce a avere abbastanza voti eccetera e quindi non ha una rappresentanza nel Consiglio e sono previsti i referendum ed è previsto che ci si possa opporsi alle decisioni dell'amministrazione autonoma, si mette in moto a questo punto un meccanismo che non è un conflitto elettorale o di strutture per cui chi sta in alto, perché noi abbiamo un rapporto gerarchico tra le istituzioni, ovvero sia il comune vale meno di certe decisioni a livello nazionale, quindi questo è il tipo di rapporto che noi abbiamo, loro invece si preoccupano di questo e siccome poi vedrete in realtà rovesciano l'importanza del decisionale per molti ambiti, per cui più si va in alto e meno è forte il vincolo verso le organizzazioni che stanno al basso, quando le decisioni dall'alto non sono condivise da quelli in basso, quelli che stanno in basso possono opporsi però tirano fuori in quell'occasione ci sarà una discussione e la decisione verrà presa per consenso, ovvero sia le due amministrazioni sulla base di questo, cioè l'invito del contratto sociale è trovate il consenso, cioè l'obiettivo è che voi risolviate il problema, non che vi facciate la lotta tra istituzioni. Naturalmente questa proposta come potete immaginare il governo di Assad non ha assolutamente dato nessun tipo di risposta nonostante ben 14 tentativi di instaurare un confronto sulla base di quello che era discusso, ovvero questa bozza di nuovo contratto sociale per arrivare a fargli dire banalmente una cosa, siccome loro dicono in questo contratto sociale, questa cosa vale per il nord est della Siria e hanno cambiato alcune dizioni e è una regione all'interno della Repubblica Democratica di Siria, vi ho già detto che non c'è la Repubblica Democratica di Siria, però loro dicono noi non siamo secessionisti, non vogliamo l'autonomia e l'indipendenza, se però vogliamo questo nostro meccanismo che abbiamo elaborato lo mettiamo in discussione ma ci sono una serie di principi che in caso di discussione di una Repubblica Democratica di Siria, quale sarà la prova che è democratica? Per il fatto che rispetterà la nostra autonomia e riconoscerà la nostra particolarità, il nostro status. C'erano sette regioni nell'amministrazione autonoma, adesso li chiamano sette cantoni e però ripetono l'amministrazione autonoma si considera il governo di un'unica regione che parte integrante della Siria. I livelli decisionali e a questo punto partiamo dal basso. Io almeno dicevo il comune, il comune, poi non riuscivo a capire bene le dimensioni da quello che dicevo, neppure è relativamente preciso, ma dopo un po' ci ho messo un po' di ore e dicevo ma perché non riesco a capire la struttura? Dopotutto è scritto, devo dire, in maniera molto semplice, è un tipo di approccio che non solo è anni in luce diverso dal normale tipo di approccio che si trova in tutto il Medio Oriente e non solo, ma è anche un diverso approccio per noi che stiamo in un mondo democratico, parlamentare e rappresentativo dei diritti. Il che vuol dire che ammetto le mie deficienze, ero lì e non riuscivo a capire perché non riuscivo a seguire il loro salto logico, perché ero ancora vincolato a un modo di pensare, nonostante io, come immagino molti di voi qua, eccetera, ma noi siamo aperti, partiamo, democrazia dal basso e roba del genere, fino a quando è bastato e dicevo, sono andato a rileggere, non è il comune, è la comune, cambia articolo e cambia sostanzialmente la cosa. Il primo nucleo di base, quello che deve risolvere i problemi di base quotidiani, lo dicono nel contratto sociale, è fatto da un gruppo di famiglie e di case, quindi stiamo parlando di un'entità piccola, di gente che si conosce, che è abituata a vivere insieme, ebbene, quello è l'organismo considerato di base nella struttura sociale per cui gli dicono, ebbene, cominciate da lì a risolvere i problemi, risolveteveli da soli, non venite a chiederle all'amministrazione in alto, ci sono delle cose che non riuscite a fare, se non riuscite a fare è perché vi mangano i soldi, perché vi mancano i mezzi, perché non riuscite, perché il problema è troppo grande, a questo punto chiedete aiuto, ma il punto di partenza è fino a quando non ci sono queste condizioni auto-organizzate, solo che non è messa in questi termini politici come vi ho messo io, hanno fatto l'articoletto ovviamente, e quindi parlo, il comune è l'organizzazione di piccole famiglie, subito dopo ti dicono, secondo organismo i consigli popolari, e io dicevo, ma se c'è il comune i consigli popolari sono la forma di organizzazione a tutti i livelli, il che vuol dire che ad ogni livello si costituiranno dei consigli popolari che prenderanno le decisioni e questi consigli verranno eletti, e verranno eletti e saranno i consigli di vicinato, i consigli delle città piccole, i consigli numerosi delle città più grandi, i consigli dei cantoni, che sono sette, e alla fine il consiglio regionale che è quello generale che copre tutti i cantoni. Parliamo sempre di consigli popolari, ecco perché c'è un articolo nel contratto sociale che dice come funzionano e quali sono le sue caratteristiche, perché noi troveremo ad ogni livello ci saranno consigli popolari, eletti con quei sistemi che vi ho detto prima, che prenderanno le decisioni. Le cose che vengono dette che sono gli elementi forti che da noi metterebbero in crisi i nostri sistemi dei diritti democratici, la regola ferrea della copresidenza, tutti i consigli, tutti gli organismi, un MAS e una femmina presidenti, regola della copresidenza a tutti i livelli. Voi provate a immaginare mettere solo questa come obbligo in una qualunque dei paesi democratici occidentali. Voto e candidature a partire dai 18 anni, la cosa che ho notato è che non hanno ritenuto di specificare maschi e femmine. Dicono voti ai 18 anni, dato per scontato, anche perché c'è un motivo. I candidati, 60% eletti direttamente, 40% eletti da corpi intermedi, eletti revocabili dal corpo che li ha eletti. Poi abbiamo a livello alto i consigli popolari democratici, così li chiamano, aggiungono rispetto a consigli popolari, aggiungono democratici e sono l'equivalente dei nostri ministeri, cioè sono dei consigli responsabili della gestione come i nostri ministeri a livello nazionale, lì per tutti i sette cantoni. E c'è quindi un generale dei consigli dei comitati esecutivi che è l'equivalente del consiglio dei ministri. Poi abbiamo i vari, chiamiamoli ministeri, permettetemi questa brutalità. Educazione e apprendimento, famiglie dei martiri feriti e prigionieri di guerra, e questo vi dice che se c'è un ministero così nel contratto sociale quanto è presente è importante questo elemento. Ambiente, affari sociali e lavoratori, legge, sanità, economia e agricoltura. Dal geografo confesso che in quelle aree l'allevamento è diffuso, che non ci sia anche agricoltura, allevamento l'ho trovato limitativo. Relazioni estere, religioni e credenze, e guardate che utilizzare il termine credenze, anche rispetto al nostro approccio di tipo diritto eccetera, è una cosa che io trovo sofisticata, perché credenze vuol dire tutte le credenze. Beh l'ateismo loro lo considerano una credenza, il che vuol dire che uno può credere di non credere, è una credenza e lo mette insieme agli altri. Poi gioventù. A questo punto arriva, c'è un qualcosa, vengono fuori due corpi aggiuntivi che nessun altro Stato democratico metterebbe e che qua invece sono soprattutto uno, sono dirompenti. C'è questo tipo di struttura che è quella amministrativa decisionale, a partire dalla comune, man mano i consigli popolari e così via, quindi da questo punto di vista noi ci ritroviamo in un sistema comprensibile. Non a caso posso farvi il parallelo col termine ministeri. Poi a questo punto invece viene fuori, l'ho trovato oggettivamente però un po' vaga la definizione delle competenze e però nella pratica è quello che mi tranquillizza perché sono stati in grado di produrre questo tipo di documento con queste grandi qualità e quindi saranno anche in grado di definire meglio il funzionamento dell'unione delle municipalità. Ovvero sia e comunque c'è a parte l'unione delle municipalità che è un altro organismo rispetto a quello amministrativo che vi ho detto e che si preoccupa dei problemi delle municipalità e quindi è anche un elemento altro. Quindi noi potremmo dire mamma che confusione o i forti critici da noi, ma così non si sa chi prende le decisioni. Dipende dal tipo di approccio mentale che tu stai utilizzando. Loro come vedete accettano, lo chiamano confederalismo democratico perché accettano una diversità di soggetti e sanno che quando ci sono diversità di soggetti, certo, si allungano le discussioni, ma ti dicono noi le discussioni le facciamo perché vogliamo il consenso, perché quando c'è il consenso a questo punto le cose si fanno e vanno avanti. Quindi mettiamo un altro soggetto che è l'unione delle municipalità e poi il consiglio delle donne e questa è la botta più forte che metterebbe in crisi tutti gli stati del mondo a partire da quelli occidentali. Il consiglio delle donne esclusa a livello della comune perché a quel livello siamo a livello di piccoli gruppi, famiglie, stiamo parlando di decine o poche centinaia di persone che si conoscono, a partire da tutti i consigli affiancato c'è il consiglio delle donne, a tutti i livelli c'è il consiglio delle donne, fatto solo dalle donne, che elabora, pensa alle donne, elabora proposte per le donne in una discussione tra le donne e lo propone agli altri organismi e discute con gli altri organismi. La protezione e l'autodifesa naturalmente in questo momento è un elemento molto forte, l'abbiamo visto, diviso in vari livelli e si dice, lo dice nel contratto sociale, c'è un dovere per tutti e quello della protezione dell'autodifesa della nostra realtà, è un dovere per tutti, non dicono c'è un servizio obbligatorio, è un dovere per tutti. Poi ci sono B, le forze democratiche siriane, SDF, che è fatto di volontari, all'interno ci sono le unità femminili che però fanno parte delle forze democratiche siriane, poi D, c'è l'intelligence, poi E, c'è, sono le forze di difesa interna, le ASAISH, anche queste sono volontari e all'interno degli ASAISH ci sono reparti autonomi femminili. Come vedete alle donne a tutti i livelli viene sempre garantito che se vogliono possono avere degli ambiti, tutti gli altri significa, da noi si dice, beh se fai reparti femminili da gli altri sono solo maschili. No, le cose normali sono miste, ciò non toglie che garantiscono che ci siano anche per le donne dei reparti in cui loro abbiano autonomia, autonomia di gestione e se tenete conto del contesto storico, culturale del Medio Oriente, questo è proprio una spinta molto forte, molto forte a favorire l'autonomia, l'autonomia femminile. Nel campo della giustizia noi avremo, ci saranno le unità dei locali e un altro elemento estremamente interessante, si parla di comitati di riconciliazione, che è l'equivalente di quel termine consenso che vi ho detto prima delle decisioni. Ci sono i crimini, ci sono quelli che fanno, ebbene non c'è una casistica per dice, bene se tu hai fatto questo crimine il giudice può applicare come da noi da uno a tre anni a seconda, no, si va dal comitato di riconciliazione, ovvero si chiamano i soggetti, chi ha commesso il reato, quelli che hanno subito il danno e si decide che cosa fare di chi ha commesso il reato sulla base del principio della riconciliazione, ovvero sia questo qua deve riconciliarsi perché ha provocato un danno e sono gli altri che devono intervenire, che devono intervenire però anche guardando in faccia non stando da un'altra parte dicendo come da noi, ah quelli lì bisognerebbe sbatterli dentro e buttare via la chiave, che è una concezione terrificante se ci pensate. Allora, comitati di riconciliazione che ci sono naturalmente a tutti i livelli ma soprattutto a livello basso perché il grosso dei crimini viene fatto, dei reati, se ci pensate anche da noi è tutto fatto a livello medio basso e quindi è a livello basso che va riconciliato alla società. Poi ci sono man mano che si sale diversi uffici di giustizia, poi consigli cantonali e poi i consigli di Danes, ovvero sia quelli tipo CSM. Consiglio superode alla matura, che però è un consiglio elettorale a diversità del nostro che è tutto per gruppi di corporazione, a tutti i livelli e anche a livello di giustizia come potete immaginare ci sono consigli speciali per le donne. Se si tratta di un reato che ha avuto a che fare con le donne, allora viene affrontato e anche nel comitato di riconciliazione lo gestiscono i comitati sui consigli speciali per le donne che sono presenti a tutti i livelli. All'ultimo, all'articolo 119, siamo alla fine, c'è la Corte per la protezione del contratto sociale. Ci fossero delle discussioni sui contrasti tra diversi organismi, a questo punto è l'equivalente della Corte Costituzionale nostra per intenderci. La struttura di questo contratto sociale è il preambolo, il capitolo 1 dei principi di base dall'1 al 36, il capitolo 2 diritti fondamentali dal 37 al 73, poi il capitolo 3 è il sistema sociale da 74 a 119 con diversi livelli in cui si parla di tutto quello che vi ho detto adesso, tutti i vari consigli, difesa delle donne, protezione eccetera, alla fine il capitolo 4 da 120 a 134. Gli ultimi 14 sono i provvedimenti generali. Ho qua tutti gli articoli della Costituzione, vado velocemente, vi ho dato un quadro, vi ho detto alcuni degli elementi forti, sentite il tipo di aggettivi e di sostantivi che vengono usati all'interno di questo contratto sociale. Il sistema democratico, ecologico, comunitario e di libertà delle donne. Adottiamo i principi della modernità democratica di fronte alla modernità capitalista. Trae la propria legittimità dalla volontà dei popoli e dei gruppi sulla base di una partecipazione libera ed equa e attraverso lezioni democratiche. Facciamo parte della Repubblica Democratica Esiliana? Tutte le lingue della geografia della Siria nord-orientale sono uguali. Voi pensate ai conflitti linguistici che sono una della normalità o una delle scuse geopolitiche rivendicate sistematicamente dagli cosiddetti stati nazioni tra imperialisti e libri nobib liquidi. Noi dobbiamo proteggere quelli che parlano la nostra lingua. Tutte le lingue sono uguali. Ogni popolo o gruppo culturale ha il diritto di organizzare la propria vita e condurre i propri affari nella propria lingua madre. Poi dicono che l'arabo, il kurdo e il sirriago sono lingue ufficiali nelle area dell'amministrazione autonoma democratica. Cioè quando vai nei documenti ufficiali, per questione di semplicità si usano queste tre lingue ufficiali, notare ma già adesso sono flessibili, se in una zona non ci sono Siria si usa kurdo e arabo, se da un'altra parte invece nella zona ci sono pochi arabi si usa kurdo e Siria e l'articolo 6 di prima, siccome tutte le lingue sono uguali, non è un ostacolo di principio ideologico che qualcuno dica ma io voglio parlare la mia lingua, perché questo quadro concettuale dice ti invito a superare le difficoltà e cercare di capire di risolvere il problema di quello che parla un'altra lingua, anche se lì guardate il plurilinguismo come potete immaginare è assolutamente diffuso, loro chiedono come vi ho detto che venga riconosciuto lo stato speciale della zona che ha una sua bandiera e loro dicono che verrà issata di fianco alla bandiera della Repubblica Democratica Siriana che vi ho già detto non c'è la regola, loro già dicono ma noi la riconosceremo, riconosciamo l'indipendenza della magistratura, c'è il giuramento di tutti che è presente nella Costituzione tra le varie cose per lavorare per una vita libera, equa e per il raggiungimento della giustizia sociale. La nostra amministrazione è costituita da cantoni basati su un concetto di democrazia locale fondata sul sistema democratico che prende come base le organizzazioni democratiche confederali di gruppi e segmenti sociali. L'individuo è libero prendendo come sua base l'organizzazione locali dei popoli, dei gruppi e dei relativi membri. Vedete che c'è un continuo a ripetere che i soggetti sono tanti, però anche l'individuo libero in conformità col principio della democrazia diretta. Le decisioni che riguardano direttamente i relativi membri sono prese secondo il principio del consenso, l'articolo 13. Adottiamo come base la vita democratica, ecologica e sociale. Consolidiamo i valori della coesistenza, lo spirito di fratellanza all'interno di un sistema comunale, democratico, libero e giusto. Poi ci sono degli articoli, uno che parla dei curdi e un altro del popolo assiro-siriaco, ce ne sarà un altro sugli izidi perché siccome sono gruppi che hanno subito e da altre parti continuano a subire esclusioni, discriminazioni eccetera, ci hanno tenuto nonostante gli articoli generali riconoscano il diritto a tutti, ha detto beh ma magari facciamo se qualcuno non vuole capire e allora hanno aggiunto guardate che diciamo esplicitamente che i curdi, gli assiri siriedi e gli izidi hanno diritto di organizzarsi, di sviluppare la loro cultura. Principio dell'economia comunitaria, autosufficienza e lo sviluppo sostenibile e equilibrato. Economia comunale per le donne eliminando lo sfruttamento delle donne, articolo 19. 21. I servizi sanitari pubblici saranno gratuiti. 22. Impediamo i monopoli nei settori dell'istruzione della sanità. Articolo venticrato è quello della copresidenza in tutti i campi politici, sociali e amministrativi di altro genere e lo ritiene un principio di rappresentanza paritaria dei sessi. E poi articolo 25 e 26 sono forti. Garantiamo la libertà e i diritti delle donne nella società e l'uguaglianza di genere e noi per esempio occidentali ci saremo fermati qui. Loro dicono ma qua c'è gente che non vuol sentire. Articolo 26. Le donne godono del libero arbitrio nella famiglia democratica che si costituisce sulla base di una paritaria esistenza condivisa. Non è che fuori casa fai il democratico e poi vai in casa e riempie di sganassoni. Vi ricordo soltanto le grandi discussioni in Libia ma soprattutto in Tunisia nel suo ruolo della donna nella Costituzione se era paritaria all'uomo o complementaria all'uomo. Questo per dirvi parliamo della Tunisia, non stiamo parlando dei paesi pretrograti da questo punto di vista. Preservare l'ecosistema, la gioventù e la forza reale pioneristica della società che è invitata a partecipare di sua spontanea volontà e lo ripeteranno altre volte, di sua spontanea volontà. Cioè l'obiettivo? Quello del consenso, la riconciliazione e di proporre un meccanismo di compartecipazione. Equa rappresentanza di tutti che è parametrata sulla base demografica delle regioni, perché le regioni hanno componenti demografiche diverse e quindi quel famoso 40% dei gruppi cambia da regione a regione. L'autodifesa contro qualsiasi pericolo interno è un diritto legittimo e un dovere per gli individui e i gruppi. L'individuo è libero, dotato di valori morali e democratici e ha il diritto di partecipare a più di un, qua dice un comune, in realtà più di una comune perché i rapporti familiari e quindi il senso di appartenenza è diverso dal nostro. Poi naturalmente giustizia, c'è un ordinamento giuristico, non ci sono crimini e punizioni fuori dell'ordinamento giuridico, l'accusato è innocente fino a quando la sua compevolezza non è provata da una sentenza definitiva. 37. L'amministrazione aderisce alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e a tutte le forme pertinenti sui diritti umani. 38. La pena di morte non è consentita. 40. Ogni persona ha libertà di credo, coscienza, pensiero e opinione. E qua la religione yazide è una religione indipendente che ha dei suoi diritti eccetera eccetera. Tutti hanno il diritto di tenere riunioni, marciare e protestare. La libertà di pensiero politico è garantita a tutti i popoli relativi membri e individui che hanno il diritto di fare partiti, associazioni eccetera, possono organizzarsi all'interno di tutti i livelli come vogliono eccetera. L'oppressione, l'assimilazione, il generocidio culturale, il cambiamento demografico, l'occupazione e lo stupro sono tutti crimini contro l'umanità e i popoli e i gruppi hanno diritto legittimo di resistere ad essi. Articolo 47. Ogni unità amministrativa a partire dal villaggio, dal quartiere, dalla città e dal cantone ha il diritto di decidere su questioni e affari che la riguardano a condizione che ciò non sia in conflitto con il contenuto del presente contratto. Quindi dentro questo quadro come vedete parte da villaggio, quartiere, città, cantone. Nessuna persona può essere discriminata, insultata o esclusa a causa di differenze di colore, sesso, razza, religione, credo o setta. Praticare ogni tipo di violenza contro le donne, sfruttarlo e imporre le loro discriminazioni negative è un crimine punibile con la legge. Articolo 51. Le donne hanno il diritto di partecipare in modo paritario a tutti gli ambiti della vita e di prendere decisioni relative ai loro affari. Poi c'è quello sui giovani, poi ci sono articoli relativi alla tutela di persone con bisogni speciali. L'articolo 54 per gli anziani, quindi ragazzi quando la Turchia smette di bombardare possiamo andare lì perché abbiamo un articolo tutto nostro. I bambini con l'articolo 55. Poi il diritto al processo equo eccetera. Ogni individuo ha il diritto di vivere in una società ecologica e sana. Articolo 59. L'istruzione è gratuita a tutti i livelli e l'istruzione primaria e intermedia è obbligatoria. Ogni cittadino, articolo 63, ogni cittadino ha diritto al lavoro, alla circolazione e all'alloggio. Se ci pensate arrivano al terzo e all'alloggio. C'è un diritto costituzionale, l'alloggio. Anche noi abbiamo l'articolo fa. Noi però lo diciamo ha diritto a un equo, a un condizioni di vita che gli consentono. Quando tu dici che l'alloggio è un diritto costituzionale, cioè tu ti impegni in maniera chiara. C'è poco da discutere e da fare sottili discussioni quando ti dicono che hai diritto all'alloggio. È garantita la libertà dei media, della stampa, delle pubblicazioni, tutto ciò è disciplinato dalla legge. C'è il diritto di chiedere asilo umanitario e politico e di sottrarsi ai maltrattamenti. Le ricchezze e le risorse naturali sono patrimonio pubblico della società. La proprietà privata è protetta e non può essere sottratta se non per interesse pubblico. Deve essere compensata in modo equo. La partecipazione di tutti i cittadini alla legittima difesa è un diritto e un dovere. La proprietà intellettuale è protetta e regolata dalla legge. La comune è la forma organizzativa di base della democrazia diretta. È la più piccola unità amministrativa. Come vedete lo ribadiscono e quando sono arrivato qui ho cominciato a dire la comune, non il comune. La comune è un consiglio autonomo. Come vedete il livello così piccolo, a questo punto non c'è bisogno di un consiglio popolare che vale solo per i livelli più alti quando c'è gente che non si conosce tutta. Allora si eleggono i propri rappresentanti. Infatti a questo punto ci sono tutte le varie strutture. C'è la struttura del comune e ribadita. La comune è adotta la democrazia diretta del proprio lavoro. La democrazia diretta è continuamente ripetuta, quindi struttura del comune, consigli popolari, compiti dei consigli. Sono tutta una serie di articoli che dicono tutti quei vari organismi che avevo detto prima, consigli e salute fino ai ministeri. A un certo punto si arriva a questa cosa che vi ho detto. Sistema municipale democratico della Siria del Nordeste. Al 109. Siamo quasi alla fine. Dico ma da dove salta fuori sta roba? Perché non me l'aspettavo. Le municipalità si organizzano secondo l'Unione dei Comuni Democratici della Siria Nord Orientale. E anche qua però la traduzione è in italiano. Ho visto quello in inglese e ovviamente qua bisognerebbe vedere il testo originale kurdo, perché municipalità si organizzano siccome l'Unione dei Comuni Democratici o delle Comuni, ecco su questo avrai bisogno di chiarimento. Perché questo qua il Consiglio Municipale e i suoi co-presidenti ogni due anni eccetera. Poi c'è il Consiglio delle Donne, a partire dal comune, dal quartiere, dalla città, dalla provincia e dalla regione. E anche qua trovo il termine provincia che non è mai stato citato prima. Quindi da questo punto di vista ho ancora delle ricerche da fare perché compare, lo voglio vedere, però è una traduzione. Bisogna vedere il termine che è stato utilizzato originalmente. Naturalmente serve a preservare il Consiglio delle Donne, preserva, protegge e sviluppa le conquiste della rivoluzione femminile, prende decisioni sulle donne, organizza le leggi relative alle donne e alla famiglia e le presenta al Consiglio Democratico del Popolo per l'emanazione. Notare che messa così sembra che il Consiglio non possa quasi intervenire. In realtà nei rapporti di loro non è così perché il consenso vale per tutti, però vedete qual è il ruolo che viene dato a questo Consiglio delle Donne che nel momento in cui elaboro una cosa delle donne e la presenta al Consiglio perché non è il Consiglio delle Donne che emana i provvedimenti ma è ovviamente l'istituzione che è delegata. Anche loro hanno un mandato che dura soltanto due anni. Poi c'è l'autodifesa, tutte le cose di protezione e difesa che vi ho già detto. Hanno naturalmente il sistema finanziario, c'è un bilancio pubblico, un ufficio centrale per il contante e i pagamenti che sviluppa un sistema finanziario che mantiene in coraggio l'economia comunale. Quindi sempre si viene rimandata e attenzione che siamo sempre all'interno di questa struttura e quindi ad ogni livello c'è sempre un riferimento. Non dimenticare che se anche gestisci l'economia nel complesso, che noi pensiamo l'economia ecologica, solidale, cooperativa che parte dal basso e poi il sistema di giustizia si basa su principi universali della giustizia e dei diritti umani, risolve i problemi legati alla giustizia attraverso le proprie istituzioni, dove la giustizia si realizza attraverso la partecipazione del popolo e l'organizzazione di unità locali democraticamente costituite. Perché guardate, poi arriva da altre parti e si dice questi comitati di riconciliazione è fatto di volontari riconosciuti dalla comunità. E noi qua diciamo ma come? Questo è un elemento di grande diversità che viene da alcune pratiche che sono sia culturali e che sono anche di diversità, che però sono diffuse. Noi siamo arrivati alla costituzione di rapporti istituzionali codificati nello specifico perché siamo usciti da quello che noi consideriamo la parte storica medievale, ovvero che si decideva nel gruppo di clan, nel gruppo di famiglie eccetera. Ma per la gran parte degli esseri umani le decisioni vengono ancora prese a quel livello. Quello che cerca di fare questo contratto sociale è quello di mescolare questi elementi di normale trattativa discussione e di creazione del consenso, che per esempio nel villaggio africano vuol dire semplicemente che è la comunità che nel corso del tempo identifica chi è l'anziano ritenuto sufficientemente attorevole per far da giudice e nessuno mette in discussione le sue decisioni e il sistema del villaggio africano tradizionale il giudice chiama le parti, il discute, ne parla, il suo giudizio è il risultato di una spiegazione in termini che tutto il gruppo è in grado di comprendere. Noi abbiamo creato un altro tipo di sistema e questo è un tentativo di mettere insieme delle unità locali in cui i comitati di riconciliazione sono fatti tradizionalmente dalle persone di cui la gente si fida perché nel corso del tempo ha dimostrato di essere capace di pacificare, di avere un atteggiamento collaborativo, di essere capace di risolvere quelle questioni, di smorzare le tensioni, di proporre delle soluzioni che generalmente trovano il consenso di tutti. Principi di giustizia, riconciliazione e armonia sono la base per risolvere i problemi, in caso di reato le parti coinvolte hanno la possibilità di difendere i propri diritti, la società la possibilità di valutare la questione, criticarla, presentare proposte, partecipare al processo decisionale. Il sistema giudiziario sostiene una rappresentanza equeparitaria di emprendi in sessi, vi ricordo che in Italia le donne hanno potuto partecipare, diventare giudici con una legge nel 1963, fino da allora non potevano diventare giudici e ancora adesso ai livelli apicali noi abbiamo 70% di maschi e 30% femmine. Le donne hanno un consiglio di giustizia speciale che giudica le decisioni che le riguarda, anche qua noi ritroviamo l'elemento particolare. Uffici di giustizia, qua tutte le cose organizzative, Tribunale per la produzione del contratto sociale, qua l'elemento che vi dicevo e siamo alla fine dell'articolo 120, all'interno della Repubblica Democratica Siriana la forma del rapporto tra noi e le altre regioni è determinata a tutti i livelli in base a una Costituzione Democratica Consensuale, l'abbiamo fatto noi con questo, in una futura Repubblica Democratica con gli altri soggetti siriani noi vogliamo una Costituzione Democratica Consensuale. con le componenti locali hanno il diritto di opporsi alle decisioni degli enti pubblici che sono in conflitto con i loro interessi e non sono in linea con la loro volontà e decisioni. Se l'obiezione non è risolta per consenso, primo obiettivo risolvetevela col consenso, viene presentata la componente interessata e il risultato viene approvato. Questo è un po' generico, dice, cosa vuol dire? Viene presentata chi? L'obiezione viene presentata chi? Però su questo avranno modo di, non sono qua per fare le chiose giuridiche, sono consentiti investimenti privati non monopolistici che non danneggiano l'economia ecologica comunale, l'età dell'elettore del candidato non deve essere inferiore ai 18 anni. L'amministrazione si impegna a rimuovere ogni traccia di cambiamento demografico e a riportarli a ciò che erano. Questo per loro è molto importante perché ci sono parti del territorio che sono stati spopolati, ripopolati sulla base di scappare dalla guerra oppure, come ci è stato detto, vengo qui perché dalle altre parti se non muoio, oppure grazie alla forzata fuga, l'obbligo fuga delle persone in altri territori. I principi sono quelli del confederalismo democratico in modo da non escludere la volontà del popolo nel comune, nel paese, nella città e nel cantone. Siamo alla fine, le modifiche dei principi, anche richiede l'approvazione dei consigli del cantone, diventa difficile cambiarli, naturalmente mettono a seconda del tipo di cambiamento la tre quarti dei membri oppure due terzi dei membri a seconda del tipo di cambiamento, se è di un intero articolo o soltanto di un pezzo dell'articolo, il contratto è soggetto a modifiche se in Siria viene approvata una Costituzione democratica. L'ultimo, l'articolo 134, entra in vigore a partire dalla data di ratifica e comunque la data che viene messa è il 12-12 del 2023. Quindi qualcosa di recente, adesso siamo nella fase della ratifica e messa in pratica. Quello che voglio sottolineare per concludere è che tutto quello che trovate definito qui, non solo come vi ho detto all'inizio, è un aggiustamento, consolidamento già di un qualcosa che c'era prima, il contratto sociale di prima, che è stato aggiustato, modificato sulla base dell'esperienza concreta e quindi ci dice che in realtà tutta una serie di cose che noi troviamo messe dentro qua, a partire dalla comune e dai vari organismi locali, la riconciliazione, il fatto che non ci sia la pena di morte, mentre nella Siria di Assad c'è la pena di morte, sono già tutte le cose e sono già praticate. Rispetto all'Italia, alla Costituzione italiana che viene a noi, abbiamo fatto una Costituzione radicalmente diversa da quella di prima, introducendo delle pratiche che prima non c'erano e quindi noi abbiamo continuato per anni e ancora adesso qualcuno dice abbiamo ancora eredità della struttura fascista e del codice Rocco, perché nella pratica, ma un po' di tutti gli stati democratici, pensate alla Germania ma anche ad altre parti, noi abbiamo ancora il prolungamento degli effetti di certe pratiche istituzionali che anche con una nuova Costituzione non si è riusciti a modificare, perché in teoria, la teoria avrebbe dovuto portare a radicali cambiamenti, ma questi radicali cambiamenti non ci sono stati, ci sono stati diluiti nel tempo. Mentre da questo punto di vista questo nuovo contratto sociale è una definizione di un qualcosa che sta già funzionando. Credo di aver parlato abbastanza.